Io sarò molto 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 rapida e proprio perché veramente insomma i tempi per questo evento sono molto stretti e quindi io mi atterrò diciamo alle tempistiche e quello che quindi voglio solo veramente rinnovare diciamo un invito all'assessore Frongia diciamo di venire quando vuole anche se la commissione urbanistica non è la commissione deputata penso magari nella commissione sport come già ha detto che farà nei prossimi mesi a relazionarci su come stanno andando insomma i lavori per l'organizzazione dell'evento ma io insomma sono molto tranquilla e fiduciosa perché veramente fino ad ora abbiamo visto in questi tre anni crescere il numero degli eventi sportivi abbiamo visto sempre abbiamo potuto tutti credo anche diciamo verificare la buona riuscita di questi eventi tutti quanti noi e quindi credo che insomma l'assessore Frongia farà un ottimo lavoro e noi siamo qui a sostenerlo quindi semplicemente per dire che il nostro voto sarà un voto favorevole grazie